Musica Utile Più merda dell'altro Un nasturbo in testa Mi sparo una sega C'è qualcuno qua? No? Sì? Come si chiama quest'arma? Stain Bella a tutti ragazzi Sono Mandino e bentornati Qua sul mio canale Con un nuovo video Siamo ancora su Advanced Warfare Perché ragazzi Come avete visto Dallo spezzone di prima Qui stavo già registrando Ho trovato lo Stain Che è tipo Una delle nuove armi Quelle a tema Seconda guerra mondiale World at war Non so cosa Però è strafiga Tipo come vedete Proprio classica Della seconda guerra mondiale Di quel periodo Molto molto figo E sembra essere anche Abbastanza forte Perché è un'arma comunque Relativamente stabile Dalle medie Dalle corte distanze È molto molto forte E Siamo raga Dentro su Deathmatch Ho sbagliato Perché stavo già per dire Siamo su Dominio Invece ho sbagliato Modalità da scegliere Sono entrato su Deathmatch Come un idiota Però intanto finiamo Le parla peggio Dopo andiamo a farci Un'altra partitozza Proprio forte Quest'arma raga L'ho trovata Ho detto Devo assolutamente Farci un video Perché Stavo già per iniziare A registrare Poi dopo essermi reso conto Che comunque Ho trovato una nuova arma Che non è neanche Una nuova arma scarsa Anzi Ho detto Facciamoci un video Giusto per variare un po' Dai soliti live Con i fucili d'assalto Perché come sapete Uso praticamente sempre AR Su AV Perché mi danno Molta più sicurezza Ovviamente Ok Esci Eh raga Io il morso Lo so usare solo Col mirino termico Qua ho avuto Una botta di culo Grande come una casa Però Siamo 7-0 Ok Che palle Raga Non potevo Non poteva Non essere già iniziata Mamma mia Che bene Che stiamo giocando Sta partita E non lo sto dicendo Per vantarmi Adesso che stanno Vero giocando Molto bene Insomma Magari Ambira qualcosa Di più Della semplice Buona partita Sono molto Concentrato Occhio Ok Eh sono tutti Da quella parte Ancora Amici Quanto siamo I 12 Via dai Bravo Bombardamento Buono Worldboard Che passeggia Non serve a niente Che palle Raga Quando ti butta Dentro Ste partite Già cominciate Ed entri Anche in serie Peccato Davvero Eh adesso Muoio anche Vabbè Comunque 15 di fila L'abbiamo fatto Buono Buono Dopo nella seconda Proveremo a Proveremo a Migliorarci Ancora Ragazzi Mamma Che livelli Altri Sono gli altri Che ci studio Rispetto a me Vabbè Va bene Va bene Va bene Raga 92 Adesso andiamo a Concludere la partita Con un buon risultato Che non voglio fare tutta la bella partita Per morire 20 volte alla fine Come un pirla Qua sono tutti a destra Mamma Quanto è forte Quanto sono forti Gli uovi modificati Su sto gioco Tanto tanto Alec Tanto tanto Io non mi ricordavo Di essere così Capace Su Advanced Warfare Io mi ricordavo Di essere un pippone Clamoroso Senza speranza Invece non è vero Dopo essere tornato Dopo anni Vabbè raga La prima partita è finita È finita anche abbastanza bene Adesso vediamo 17-18-1 Dovrei aver fatto Se non sbaglio 17-1 Buona partita Ci troviamo dentro subito Con la seconda raga Ok raga Seconda partita Già è iniziata anche questa Però era già iniziata anche quell'altra Quindi ci bilanciamo un po' Mi sono appena distrutto la caviglia Perché già Avevo la caviglia che faceva male In più me la sono piegata appena adesso Comunque Piccola cosa raga Se siete arrivati a questo punto del video Adesso mi diverte farlo Quindi continuo a farlo Scrivete un commento Scrivendo Semplicemente Il mio cane si chiama Stan Non vi dico il perché Voglio vedere se qualcuno di voi ci arriva Ah Quindi il mio cane si chiama Stan Io vi dico Non vi dico il motivo Per il quale faccio Scrivere proprio questa frase Voi dovete trovare il collegamento Se siete dei geni E lo trovate Vincete un biscottino Ah C'è la pompa Forte questo UAV Si comincia a giocare Dai raga 6-0 Io sono forte solo nelle partite Già iniziate Perché boh Mi riesco a Io mi tolgo la vita Te il tuo fucile a pompa Di merda Te lo fico su per il Retto Ventricolare Atriale Venosegno Ventricolare Santo cielo Sti fucile a pompa Mi ha rotto il cazzo Minchia Quanto sto godendo Dai Facciamo una buona Seconda partita E via Comunque arma proprio Forte Però mi prendo le sperle In faccia Torniamo in quella zona lì Che è quella che sembra Garantire più sicurezza Almeno che non arrivi Mister Ti sparo il pompa In faccia Per esempio Oh Tutte le partite Parto bene Poi Gli altri iniziano a diventare Dei Delle cellule tumorali E gli fai contro le triple No Perché ricarico Che faccio la quad Quad feed Bitch Occhio Buono Adesso ho paura Maledetto Uaviri disturbo Ce li ho dietro 100% Beh intanto io li seguo questo Tre partite raga Che sto cercando di fare Questa seconda partita E non Riesco a combinar nulla E mi chiedo Ma perché Ma perché Ma perché Perché avevo cambiato classe E mi sono dimenticato Di mettere propulsione furtiva Che A parere mio è il perk Più importante del gioco Perché se salti E ti vedono Sei fottuto Cavolo raga Io ho tirato l'UAV Come un idiota Con l'UAV di disturbo contro Marker Marker Occhio Oddio Ok Ok Tira tutto Dai All Si che è valido Oh Porca merda Ok Ho appena entro in serie Siamo a 91 Ma Vita infame Ok Bravo Bella serie anche qua Abbiamo fatto Se devo essere sincero Un altro senza anima Quindi nuclear raga Senza anima più senza anima Uguale nuclear Se la matematica Non è un'opinione Finita anche questa Due partite Non so quando Possono essere durata Ma sicuramente Più di 5-6 minuti Quindi penso sia un video Abbastanza lungo 26-3 Bella anche la seconda partita Se fosse durata di più Anche questa Probabilmente anche qua Potevamo fare una ferocia Peccato però Ci attacchiamo Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre vi invito Lasciate un bel mi piace Un commento Se ancora non siete Iscrivetevi al mio canale Che mi fa sempre molto piacere Noi ci troviamo come sempre domani Con un nuovo video Per oggi Siamo vedendo tutto E bella